Vittoria non dimentica il dolore per quanto accaduto l'11 luglio non passerà mai. C'è rabbia verso chi ha ucciso Alessio e Simone, rabbia che si riflette automaticamente anche nei confronti dei loro difensori legali. Per questo l'ordine forense, e non capita spesso, è sceso in campo rompendo il silenzio e sostenendo i difensori che affiancheranno i quattro indagati. Anche l'avvocatura locale è attonita per quanto accaduto e si stringe accanto alle famiglie di Alessio e Simone straziate da un dolore indicibile. Inizia con queste parole il lungo comunicato dell'ordine provinciale degli avvocati di Ragusa intervenuto a sostegno dei propri legali etichettati dal pensiero pubblico come avvocati del diavolo. Adesso si trovano vicini agli indagati, loro assistiti, associati al reato, al loro contestato e purtroppo ancora più odiosamente al tragico e luttuoso evento. E' dovere dell'avvocatura ragusana pertanto rammentare a quella parte dell'opinione pubblica che vede nel processo penale solo un momento di vendetta e catarsi sociale che il processo penale serve piuttosto ad accertare fatti giuridicamente rilevanti e attribuire eventuali responsabilità agli imputati che in caso di condanna devono essere condannati alle pene di legge. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e in ogni contesto giudiziario processuale il ruolo dell'avvocato è necessario, indefettibile e irrinunciabile. L'avvocato non difende il reato ma sempre è soltanto l'imputato che ha diritto a un processo svolto nel rispetto delle regole. Qualunque sia il fatto o reato contestato all'avvocato protagonista della giurisdizione permangono possibilità di scelte processuali che certamente possono e devono coniugare il diritto inviolabile di difesa del cittadino da una a parte e il rispetto delle regole e delle responsabilità sociali del difensore dall'altro. L'etica dell'avvocato risiede proprio in questa capacità di coniugazione di valori. L'auspicio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa è che tutti gli avvocati possono sempre comunicare e promuovere tali irrinunciabili valori.